Che cosa c'è tra di voi? Nulla Emma, non c'è nulla. La sto solo aiutando a curarsi, ma forse mi vede come un salvatore e si è fatta dalle illusioni, solo questo. Ah, quindi è tutta una sua illusione? Sì, è così. Petra non è un'ingenua. Quell'unico ingenuo sei tu. Ascolta, se stai insinuando che lei mi stia manipolando, la risposta è no. E tanto non lo ammetterei mai. Petra ha capito che tu rivedi lei tua moglie e sta sfruttando la situazione. Ti dico di no. Mi vuoi ancora sposare, giusto? Ma certo che lo voglio. Allora promettimi che non la rivedrà mai più. Va bene. Grazie.